Esercizio. Rispondi oralmente a queste domande risposta multipla. Scrivi le risposte nei commenti per avere conferma di aver svolto bene l'esercizio. Cos'è il coronavirus? Un virus, un paparazzo, un gioiello. Il coronavirus è pericoloso? È mortale? A volte è grave? È una comune influenza? Dove si è diffuso coronavirus? In Cina, in Italia, in tutto il mondo. Come avviene il contagio? Con le secrezioni, con lo sguardo, con il contatto. Quali sono i sintomi più frequenti? Macchie rosse, febbre e tosse, prurito. Cos'è un virus? Un programma? Un microorganismo parassita? Una pianta? A cosa servono i vaccini? A niente. A far ammalare? A stimolare risposte immunitarie? Come vanno lavate le mani? Spesso, con acqua e sapone, con i guanti. Cosa non bisogna toccare con le mani? Gli occhi, il naso, la bocca. Dove bisogna starnutire e tossire? Nel fazzoletto, nel gomito, nelle mani. Come bisogna pulire le superfici? Con acqua, con acido, con disinfettanti. Quando vanno presi i farmaci? Sempre per prevenire, su indicazione del medico, mai. Quando usare la mascherina? Sempre, solo se malati o per l'assistenza, mai. Quando hai sintomi, cosa devi fare? Chiamare il medico? Chiamare i numeri regionali? Andare in ospedale? Cosa bisogna evitare? Abbracci estrette di mano? Contatti ravvicinati? Luoghi affollati? Quale distanza bisogna mantenere? Cinque metri? Un metro? Ottantadue centimetri? Well done! Hai concluso l'esercizio. Se eri in dubbio su alcune risposte, puoi inserire le risposte nei commenti per avere la correzione, oppure riguardare il video precedente. Altri esercizi ti aspettano sul canale.